Pesantissima settima sconfitta consecutiva per la VL che cade 83-82 a Scafati in un match che l'ha vista quasi sempre in vantaggio raggiungendo anche un più 8 a 6 minuti dal termine. La squadra di Sacchetti compromette una buona gara con un ultimo parziale in cui patisce la rimonta dei campani che vanno per la prima volta in vantaggio ad un minuto e mezzo dalla sirena per poi prendersi l'intera posta. Una sconfitta urticante per la VL ora immersi i mani e i piedi nel terzetto di coda che sgomita in lotta a retrocessione. Nella Serie B di basket continua la corsa dell'Ital Service Loreto che ad Ancona centra la seconda vittoria consecutiva battendo in scioltezza la Stamura con un 87-56 in trasferta. Nella pallavolo bella vittoria della Megabox Vallefoglia che sabato sera ha battuto una coreace a Busto Arsizio dopo tre combattuti set in cui le Tigri la spuntano 25-17, 25-21, 25-22. Vittoria importante che mantiene la Megabox in corsa playoff. Si ferma invece dopo nove turni utili la striscia positiva della Vispesero che nell'anticipo del venerdì sera è caduta 3-1 in casa contro il quotato Gubbio. E dire che la partita della Visse era messa benissimo con l'1-0 del solito Carson dopo due minuti e mezzo. Il Gubbio però reagisce e la ribalta nel giro di cinque minuti con Di Massimo e Spina. Nel secondo tempo è lo stesso Di Massimo a mettere a segno l'1-3 definitivo. Vis che resta imbischiata nella bagarre ai limiti della zona Playout. Grazie Grazie Grazie.